Si aggira intorno ai 10.000 euro il valore complessivo del colpo messo a segno nel punto vendita pesarese della catena di negozi di elettronica Media World. Il furto si è consumato nella notte tra sabato e domenica, quando la banda di ladri è riuscita ad introdursi all'interno del plesso commerciale, forzando una finestra posta sul retro dell'edificio. Diversi prodotti scomparsi che compongono la cospicua refurtiva dei malviventi, macchine fotografiche, computer e altri apparecchi tecnologici di diverse marche presenti sul mercato. Il furto subito è stato denunciato soltanto all'arrivo dei dipendenti per l'apertura dell'attività, segnale che gli stessi malviventi potrebbero aver disattivato o messo fuori uso il sistema di allarme del plesso. Sul caso sono intervenuti e indagano i carabinieri della stazione di Borgo Santa Maria, che per risalire al numero esatto e all'identità dei soggetti che si sono introdotti nel punto vendita, potranno anche visionare le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti sia all'interno che sul perimetro esterno dell'edificio. Il colpo al Media World si aggiunge quindi alla lista di furti segnalati in città. Di recente e nei giorni antecedenti al weekend, diversi sono stati gli episodi registrati nelle abitazioni private, come quello che ha visto una donna denunciare la sparizione di gioielli brillanti, per un valore di alcune migliaia di euro, dal piano inferiore della propria abitazione. I malviventi si sarebbero introdotti in casa nonostante la presenza della proprietaria, con la quale però non ci sono stati contatti.